I vigili del fuoco e i carabinieri portano fuori una alla volta le stufe a gas che riscaldavano l'appartamento al civico 9 di via Generale Tellini, nel centro di San Vito dei Normanni. Una di queste è esplosa alle 10.30 di sabato mattina, devastando l'abitazione. Ricoverate in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi, la pensionata ultranovantenne che vive da sola nell'appartamento e che ha riportato ustioni di secondo grado sul corpo. L'esplosione, avvenuta quando l'anziana donna si trovava in bagno, ha divelto la finestra d'ingresso e ha provocato gravi danni all'interno dell'abitazione. I detriti e i vetri sono stati proiettati a decine di metri di distanza sulla strada. Immediati i soccorsi, prima i vicini di casa, poi i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. L'anziana donna, che è del tutto autosufficiente e pare guidi ancora la sua Opel con cambio automatico, è stata trasportata da un'ambulanza del 118 all'ospedale Perrino con il corpo gravemente ustionato. I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza l'appartamento, hanno prelevato i resti della stufa e della bombola distrutte dall'esplosione e poi hanno esaminato le condizioni delle altre stufe alimentate con bombole che si trovavano all'interno dell'appartamento. Sarà importante per definire con precisione le cause dell'incidente.